ha 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 sto male fai sfogare la franza con il banono francone no 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 a quest'ora questa zona ha un so di quasi irregolare vengo semplice perché io ho male ricordati devo sempre sarebbe abbiano sbannato isabel lo sapevo nato e voglia anche perché è nato in realtà non posso dirti di più lo sapevo ancora prima top uomo ma che peccato signore deve mettere una fascetta perché sta per perdere il copriciare chiede un peccato poi lo vede quello dietro allora fregatelo allora io a me quando me le prestano no perché sa perché è un peccato perché è ancora attaccato invece si mette la fascetta non lo perde salve pizza pizza di là c'è gli spacciatori gente pericolosa e lo sappiamo però va certo no dai li so che bello quell'uomo che bello mi sta facendo eccitare no ma devo andare da lui subito se siete fidanzati siete bellissimi io vi sto il bacio mi stavo eccitando però confesso che mi piace un casino lui non so perché ero in diretta lo stavo dicendo ci tenevo perché io sono rigorosamente bisessuale vado maschi femmine lui è bellissimo però mamma mia e io sono contentissimo perché io sono un grande supportatore delle gb no allora posso baciarlo allora posso farlo anche diretta sulla bocca ma dove madonna mia ma che sei belli ma non posso fare una mini carezza ma io lo amo amore grazie scusate ci tenevo ciao buonasera troppo belli basta arrivederci ciao se non scopo stasera c'era qua che bello che era madonna top uomo cioè bisognava baciarlo raga è inutile bisognava baciarlo cioè dobbiamo andare perché che me lo scopo poi sì però alla fine alla fine mi piaceva lui però mi sarei fatto l'amico sai mi sono sono rimasto deluso raga mi sono bagnato tu sei una vera picco esatto sono una vera puttana cioè raga ho baciato lui ma mi sarei fatto l'amico ve lo giuro onesto contentissima sì lei è contentissima d'alia si vedi faccio salti di gioia esatto non mi baciare più fino a dopo dai ma no perché è un bravo un bravo uomo c'è no ma guarda che c'è io ho fatto anche il vaccino di lui cosa sono ti ha raidato alfonso signorini stavo ascoltando soltanto l'ha baciato davvero no roz per finta tutto finto sai che io non bacio maschi in bocca a roz tutto finto non è successo niente roz ha il comit 64 l'ho capito da comodo 64 cioè meriterebbe il vip sir victor cioè queste battute no bisogna dargli il vip questa è una battuta troppo epica sir cioè non si può con una battuta del genere non posso non dare il vip cioè aspetta fabio ha i peletti della barba in bocca no non è che lo bacio si pulisco perché mi sono pulito perché magari poi dopo no come si chiama aspetta lo voglio vip sir sir scrivi ancora sir ti voglio vip subito così è troppo figa